Una prestazione come si può giudicare? Oggi abbiamo visto dal primo minuto anche combattere parecchio e mi sembra che tu stia cominciando ad entrare nel meccanismo della squadra. Sì, mi sto diciamo adattando al nuovo campionato, sto cercando di fare quello che mi chiede il mister, quindi di aiutare la squadra, di fare la lotta davanti il più possibile per far salire la squadra. Oggi la prestazione è stata, secondo me, in crescendo, ho preso fiducia con andare avanti della partita. È un punto che sicuramente vale tanto per noi perché ci aiuta a lavorare con più serenità in settimana per preparare la partita di mercoledì che sarà sicuramente una battaglia. Quanto è importante per voi giovani il recupero di alcuni giocatori, insomma, di più esperti che oggi finalmente si sono rivisti? Per noi è molto importante perché essendo una squadra giovane, quindi con mediamente poca esperienza, avere persone come Valiani, Chinellato, Momente in campo ci dà sicuramente manforte a livello anche vocale, ci aiutano e quindi danno tanto non solo tecnicamente ma anche un contributo a livello più morale ai compagni più giovani. Secondo te questa squadra per essere più incisiva in che cosa deve migliorare? Adesso stiamo, diciamo, recuperando un po' di solidità difensiva che c'era la mancata nelle ultime partite e adesso dovremo migliorare nella fase offensiva e cercare giocate migliori per trovare il gol. Ti aspettavi la Serie 5 sia difficile? Sì, un po', sì, me l'aspettavo, perché l'opinione un po' comune è quella che sia un campionato molto tosto, fisico, con i quali i giovani comunque devono adattarsi e quindi sì, le aspettative erano più o meno queste. E ora, di qui alla fine di campionato, cosa ti propone? Io mi auguro di fare più presenze possibili, di aiutare questa squadra a salvarsi e di trovare il gol anche prima possibile. Grazie. Ciao. Ciao.